5 buoni motivi per vedere Memento. Il primo è Christopher Nolan, che è uno dei registi più importanti del nuovo cinema americano, che aveva esordito con Following, Memento è il suo primo film importante. Dopo Memento ci sono tra gli altri Prestige, un duello di illusionisti, i due ultimi Batman e il prossimo Batman e soprattutto Inception, che probabilmente tutti avete visto nella scorsa stagione. Il secondo motivo per vedere Memento è la struttura. Questo è un film che è impossibile rovinare raccontando il finale, perché il finale è nei primi 5 minuti, poi ci sono i 5 minuti precedenti, poi i 5 minuti ancora precedenti per mettervi nei panni del protagonista che ha un problema alla testa che gli azzera la memoria recente. Il terzo motivo per vedere Memento è che è un noir moderno. Il noir è un genere che esiste quanto meno dagli anni 40, che ha tutta una sua iconografia di donne fatali, di manipolazioni, di vendette. In Memento c'è tutto questo, però è abbastanza difficile capire chi sta manipolando chi. Vedetelo fino alla fine per capire qual è la verità. Un quarto motivo per vedere Memento, l'identità. Kurt Vonnegut, un grande scrittore di fantascienza, ha scritto in Madrenotte, noi siamo quello che facciamo finta di essere, per cui dobbiamo fare molta attenzione a quello che facciamo finta di essere. Ma noi siamo anche quello che ricordiamo e scegliere quello che ricordiamo ci fa diventare qualcosa di diverso. È quello che succede in Memento. L'ultimo motivo per vedere Memento è il puzzle, il gioco. Questo è un film che dovreste cercare di vedere con qualcuno o quantomeno subito dopo sentirvi con qualcuno per condividere le vostre impressioni. È un film che vi fa sentire dopo come ci si sente quando si è fatta una ginnastica, un esercizio a cui non si era abituati. Si scopre di avere male, di sentire indolenzite dei muscoli che non si sapeva di avere. Memento fa la stessa cosa, ma lo fa col vostro cervello. Buon divertimento.